ciao a tutti e bentornati sul canale spero che abbiate passato delle bellissime vacanze che vi siete ingobonati di cibo ora perché questo video di introduzione ad un podcast perché una delle due fotocamere che abbiamo utilizzato per registrare il podcast a metà della registrazione ha pensato bene di spegnersi c'è stato forse un problema con la batteria oppure se è surriscaldata non lo so però il problema è stato che abbiamo perso un'ora di video meno male che abbiamo registrato tutto con due fotocamere perché se no ci sarebbe stata una bellissima immagine nera per tutto il tempo ora fortunatamente questo sarà un podcast quindi volendo potete tranquillamente mettere un'altra tab lavorare ascoltarlo cucinare fate quello che volete basta solo ascoltare l'audio e non ci sarà bisogno di immagini però per tutte le persone che lo guarderanno e a un certo punto troveranno solo e soltanto un'inquadratura e non ci sarà più il montaggio disponibile chiediamo a nome di tutti noi scusa ma qualcuno evidentemente ci ha fatto un malocchio perché non è la prima cosa che sta andando male ultimamente detto questo non voglio più lamentarmi basta stop vi lascio al podcast fateci sapere cosa ne pensate se vi siete annoiati se vi siete divertiti qualunque veramente qualunque cosa vi prego commentate e soprattutto volevamo ringraziare tutti i nuovi iscritti e tutte le nuove persone che ci stanno seguendo in questo momento basta sto zitto vi lascio a marco a siria grazie e buona visione o buon ascolto ciao mi ha spaccato la mano va bene adesso potete cominciare quando volete quando voglio allora marco sei pronto per che cosa esatto praticamente tu non sai niente io non so mai niente in realtà io ti spiego di opere sconosciutissime di autori conosciutissimi ok ok paura danni tutto pronto dalla regia tutto pronto bene allora io sono siria io sono marco ma non vorrei essere qui però ha capito quello che volevo fare e questo è twindy no non è quella metto la musichetta ah mi metti la musichetta che non sento no non parte la musichetta dalla regia parte la musichetta come facciamo fatela voi la facciamo questo è siria e marco no 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 ha un titolo questa cosa questo podcast si chiama l'opera con tre soldi esatto perché siamo poveri esatto non è quella di ma neanche tre ne abbiamo in realtà uno è quella di ensemble company perché siamo dei poveracci quelli che avevamo li abbiamo spesi nel computer però piace il titolo l'ho pensato io quindi ti deve piacere per forza bellissimo ma non ci avrei dormito la notte io lo so infatti è quello che ho fatto io non ho dormito la notte avevo l'ansia infatti ce l'ho ancora adesso comunque partiamo solo un facile che ha avuto che ha a che fare con la follia non sei tu allora eliminando è uno è uno uno cioè quelli famosissimi cioè autore molto famoso perché ci sono un bel po hai già capito chi è giusto suppongo sia pirandello bravissimo croc dunque dimmi qualche opera sua sei personaggi in cerca d'autore li ho là bravo quella che non hai tu la patente stavo per dire tante cose che non potevo dire meno male la patente ma non solo teatrali eh tipo uno nessuno centomila ah uno nessuno centomila sì ce n'è un altro che non mi viene molto famosa così è se mi pare esatto eh sì ce ne sono un paio però in realtà esatto un po le sappiamo perché a scuola cioè almeno questo viene pirandello se fa se fa quante di queste opere hai veramente letto due cioè letto per intero sì non più di due sono sincero però devo chiedergli quale devo chiederti quale no vabbè allora io facciamo fin da niente non le ho lette diciamo che non le ho lette così da vergognosa ti dico che invece ho letto uno nessuno centomila e mi sono fatta certi pipponi mentali che ci ho messo molto tempo per leggerlo diciamo che tutto il suo pensiero si basa su quello quindi esatto però ti dico un libricino spesso così pagato 99 centesimi lanciato addosso al supermercato ci ho messo veramente tanto a leggerlo però complimenti ecco pirandello comunque è una storia che stiamo parlando di non si può dire facciamo tutta pubblicità a scrittori che non sanno scrivere ma penso che avranno capito di chi ok vogliamo fare un ripassino di pirandello l'ho preparato sì facciamo ripassino di pirandello sì perché deve essere un podcast utile questo e quindi ho i fogli perché non sono capace già mi spiego malissimo la vecchiai luigi pirandello nasce in provincia di agrigento come te marco esatto bravissimo sono stato pure a casa sua cioè dopo che è morto ovviamente perché è morto un tempo fa aspetta nel mio copione nel mio copione nasce ad agrigento c'è scritto che sono andata a casa sua nella sua storia no 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 però ho scritto che nasce in provincia di agrigento come te il 28 giugno quindi è cancro come me e nell'anno 1867 come te marco non è vero sono nato da 68 ma vabbè io e la cattiveria comunque muore invece nel 1936 a 69 anni a causa di una polmonite durante le riprese del film il fumati al pascal ecco il fumati al pascal non mi veniva il titolo ecco bravo tipo jonathan larson che è schiattato prima di rent comunque è stato un drammaturgo scrittore e poeta che per un bordello di roba che ha fatto per le tematiche di innovazione è considerato uno dei più importanti drammaturghi del ventesimo secolo si menziona obbligatoriamente il premio nobel per la letteratura a 67 anni quindi marco se ancora in tempo nel 1934 comunque vive a cavallo tra naturalismo e decadentismo e secondo te come tutti gli autori possibili immaginabili era depresso a parte del depresso che cosa ha studiato lettere che invece il papà c'è come tutti c'era il papà che voleva fargli fare un'altra roba lui invece ha detto no voglio fare lo scrittore non mi ricordo cosa faceva il papà avevano una miniera l'aveva iscritto le miniere in sicilia in quegli anni l'aveva iscritto per un percorso di studio tecnico tipo e invece no lui ha detto no io voglio scrivere quindi alla fine si è laureato si è passato un po meglio dei suoi conterranei si è laureato in filologia romanza tutto sto pippone per sposarsi alla fine è quella la destinazione di tutti esatto cioè lui ha fatto tutta sta roba e poi sposarsi con la signora maria antonietta portulana non maria antonietta no portulana che la conosci vero no no non so grazie dio questa lo lascia scrivere e quindi lui potrà scrivere tutta quella roba che ha scritto e ne ha scritta anche fin troppa forse dal 1903 è un casino perché si allaga la miniera di suo papà la moglie comincia ad avere gli attacchi insomma di pazzia esatto la famiglia va in crisi finanziaria e quindi lui poveraccio cosa deve fare da bravo artista qual è che si ritrova in difficoltà se ne va no deve iniziare a lavorare ok stava lavorando poverino amore è un artista quello che faremo prima o poi anche noi esatto poi c'è la guerra la moglie viene recuperata il manicomio ciliegina sulla torta l'annessione al partito fascista che si va beh ecco il periodo diciamo che però questa cosa è un fatto che ce la ricordiamo tutti vero cioè spero almeno questo grazie a questo poi comunque si è diventato uno dei più famosi nel world e ha vinto il premio nobel come se non bastasse nel 1925 aiutiamola aiutiamoli a casa loro ha fondato la compagnia teatrale che si chiama teatro d'arte come noi ha fondato la compagnia teatrale marco che voglio dire cosa fanno loro a differenza nostra girano al mondo sono finiti anche a broadway noi quando ci finiamo a broadway non lo so sta comprando i biglietti comunque un gran figo un po proistio ma molto figo e il suo teatro è decisamente rivoluzionario con elementi di futurismo grottesco e surrealismo e vorrei dire che il mio vicino di casa è un dadaista ma non sa fare tutte ste robe comunque che non è siciliano sarà quello governeremo il mondo comunque smaschera la finzione teatrale affermando che il teatro è una finzione al quadrato perché stimola la vita no simula non stimola entrambe le cose in effetti la quale è già di per sé una finzione cioè un trip di quelli me coglioni grazie le opere di pirandello non possono essere inserite in nessun movimento letterario a lui contemporaneo in tutti i testi umoristici di pirandello il tragico e il comico vengono mescolati e soprattutto sorvola ho scritto nei commenti come una catapulta ho scritto come una catapulta vabbè sorvola il concetto di verismo perché secondo lui la realtà è un flusso continuo non conoscibile razionalmente una molteplicità di aspetti come le maschere dell'uomo che si impone nella vita sociale e chi ha la follia come unica via di salvezza io mi sono perso scusate vabbè leggiti uno nessuno centomila ci metti due anni però lo capisci va bene ok perché ho voluto farti la spirandello per confondermi le idee secondo me no dai no vabbè ma è un ripassone dei tempi delle superiori è vero che ho passato tanto tempo però cioè cento anni tipo cioè se ti fai le battute sul fatto che sei vecchio da solo cioè io non è che ti posso salvare va bene parla quella che comunque non è che sia uscita proprio direi l'altro ma io sono comunque più giovane ho capito cinque anni sono passati tutti se non di più forse anche sei da quando ho parlato di pirandello comunque ha vinto questo premio nobel e quindi per forza se ne parla a scuola ma gli altri non hanno vinto però comunque se ne parla anche però è importante soprattutto per il teatro ne parleremo ancora quando lo vincerai anche tu il premio nobel pensavo soprattutto perché era siciliano anche perché era siciliano questo era di base andiamo avanti abbiamo fatto tutto sto ripassone di pirandello e adesso cosa facciamo secondo te basta grazie a tutti per essere venuti no come ho fatto quando sono venuta da te ti ho detto ehi ma sai che oscar wilde ha scritto forse questa cosa che si chiama tele nie tu mi hai detto che fico mettiamola in scena rifacciamo la stessa cosa io ti propongo una sua opera teatrale che in pochi conoscono però così lo sponeriamo cioè nel senso se è figa qualcuno che ci starà ascoltando vedendo ho capito però te ne devo parlare in qualche modo eh lo so vabbè voi non potete copiare vale l'esclusiva ok fatevi i cavoli vostri non ascoltate sta roba no sto scherzando quindi quest'opera che ho scelto fai qualcosa con la musica così si capisce o trovarsi ma cos'è un libro un harmony no 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 è un testo molto interessante siccome è una trama molto interessante un po' casinata però come tutto quello che è di pirandello te ne parlo anche e ovviamente il riassunto il riassuntazzo fatto un po' a raggio l'ho preso da wikipedia perché non ho il dono della sintesi e quindi l'abbiamo visto prima esatto esempio non so quanto durerà questa cosa 68 anni di vita riassunti in 67 anni vabbè ma ecco va bene il foglio vi dico che io l'ho letto ed è parecchio lungo l'hai letto trovarsi no ho letto la parte dei tuoi fogli ed è parecchio lungo io vorrei dire che sono anche mezzo cieco quindi lei può avere i fogli lì ma io non li vedo quindi dai allora te lo leggo io perché tu non grazie alla vecchiaia trovarsi è una commedia in tre atti composta nel 32 e dedicato a marta abba che è tipo stata la sua musa ispiratrice che ne sarà interprete principale il 4 novembre dello stesso anno che non era moglie no l'altra era maria antonietta bella questa cosa dedichiamo a fare un po' di gossip bello questo gossip qui vabbè poi guardatelo da solo quello non l'ho guardato prossima puntata debutterà il 4 novembre come ho detto nel 32 al teatro dei fiorentini che secondo te dove si trova a bergamo bravissimo a napoli trama nel primo atto vediamo un gruppo di borghesi ipocriti perbenisti donne e uomini superficiali che non si fanno infatti loro e parlano malissimo dal nostro protagonista il parlamento no 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 proprio borghesi antipatici che non si fanno i fattacci propri gli piace il gossip c'è tipo te prima parlano malissimo alla nostra eroina che si chiama donata genzi ok tra l'altro come se non fosse dall'altra parte della stanza quindi non la sentono tipo generentola no cioè che la trattano male ma lei sta lì dice boh te la pigli no no perché la signora genzi è un'attrice e per la sua professione di attrice deve assumere di volta in volta l'identità di vari personaggi rappresentati sul palcoscenico e per questo la giovane nina che è uno dei personaggi che è una grande scassaballe ma proprio tantissimo infatti mentre leggevo detto questa la farei io il contesto l'attrice di vivere nella falsità perché donata la nostra protagonista interpreta con tutta se stessa anche personaggi dalla dalle caratteristiche opposte cioè dice se è una falsa di cacca perché tu sai fare sia una cosa che l'altra quindi con la massima sincerità e quindi in realtà sei entrambe le cose sei una falsa di merda ok sei falsa simona esatto così pensavo proprio quello donata di tutto punto le risponde prima di tutto mi calmi prima di tutto e poi dice che questo spettacolo si sta scrivendo da solo esatto che non si tratta di falsità ma invece è tutta vita in noi che ha trovato la sua espressione non ho capito la vita che vive lei per i personaggi non è falsità ma è vita che ha trovato la sua espressione è una super cazzola grande ma tutto però di quelle esistenzialiste capisci quindi cioè nel senso io lo presento male però è molto bello tra poco farò pure le super cazzol mie comunque lei prima zittisce la la nina scassaballe poi quando è per i cacchi suoi in realtà si menano però se tu fai la regia di questa cosa puoi anche fare così dal giorno oggi ci sarebbe una bella scazzottata dopo vediamo è datato questo degli anni 30 quindi prima zittisce nina e poi quando è per i cacchi propri quando cala il sipario l'attrice di fronte allo specchio del suo camerino non si trova più capisci il titolo dello spettacolo che è trovarsi trovarsi perché finita la vita del personaggio rappresentato non sa più chi essa sia cioè lei vive la vita dei suoi personaggi ma quando non è personaggio non sa chi e io direi c'è un gran culo perché se lei non ha il tempo di vivere la propria vita perché è troppo impegnata a interpretare i personaggi personaggi sul palco vuol dire che lavora un sacco beh sì però è anche la realtà di molti attori quelli che si perdono nei loro personaggi quello è vero ma noi in realtà abbiamo una fortuna facciamo personaggi sempre diversi ci sono attori che spesso si fermano su uno stesso personaggio per decenni ed è normale che poi diventi parte di quel personaggio un po troppo ok sì va bene ho letto diverse cose su certi attori che hanno avuto problemi successivamente gli sta piacendo gli sta piacendo vero Dani cosa dì Dani fa sì con la testa beh soprattutto se vedo già nel cast Giorgio e Siria che semenano poi vediamo il cast anche se Daniele come protagonista ce l'ha detto bene questo è solamente il primo atto ce ne sono tre arrivo al secondo Donata è spinta dal senso di vuoto per questa cosa perché lei vive la vita dei personaggi ma la sua non ce l'ha e quindi secondo te cosa fa questa drama queen per eccellenza cosa cerca? un uomo Daniele fa gesti che non possiamo ripetere ma penso che immaginerete no prima di quello cerca un'altra roba cerca di ammazzarsi praticamente e quindi convince il primo tizio che si trova davanti letteralmente ad avventurarsi nel mare in tempesta è un po' confusa perché un tizio davanti invece di chiedergli andiamo in camera andiamo nel mare in tempesta è appena iniziato il secondo atto non ti preoccupare no in realtà è anche la fine del primo vabbè sto tizio è Ellie Nielsen o Ellie Nielsen non lo so io lo pronuncio così che parete di Brigitte Nielsen quella di Fantaghiro Daniele lo cercherà quanto è vecchio no Marco alla fine non l'ho cercato senti Brigitte Nielsen è una gran figa però ok ebbè anche lui è un gran figo è un buonazzo figlio di papà che però ehi ha una barca e quindi e quindi fa la fine del Titanic la barca durante la tempesta naufraga e lui salva lei e diventa Shakespeare aspetta spero di aver letto male ma la salva tipo mordendole la testa e poi trascinandola perché nel secondo atto lei ha letteralmente una fascia in testa tipo io settimana scorsa al pronto soccorso perché lui l'ha morsicata per salvarla quindi questa è una cosa tipo Baywatch versione pirandello dove Pamela Anderson invece di correre con le bocce saltellandi quindi c'è questo tizio che aggancia bello esatto un'immagine meravigliosa una cosa che io buono non ho capito questa cosa è andata in scena cioè questo spettacolo sì sì ma non si vede lui che la zanna però no ma è la parte più bella ok allora quando lo metteremo in scena ok qualcuno avrà la testa di qualcun altro ok dato che questa rose del nostro racconto è stata salvata dal Jack di turno cosa vuoi che faccia? gliela dà gliela dà bravissimo quindi scoppia in questo secondo atto questa storia d'amore super appassionata che dura ben 20 giorni così perché loro sono scappati proprio via in 20 giorni loro vivono l'amore della vita si Sira non sa cosa è penthouse esatto sì no non l'ho mai guardata non male però si incrina questo rapporto perché Eli o Eli o come si dice vuole donata tutta per sé le propone di sposarla dopo ben 20 giorni purché non ripreda col teatro e già lì vabbè un po' maschilista stai calmino ma non lo so il periodo è quello da sì vabbè ok lei si fa le pippe mentali che manco io perché ama lui alla follia ma non vorrebbe rinunciare alla sua carriera in teatro per convincerlo cosa fa? pensa di cioè gli dice suicidarsi no no gli dice vieni a vedermi in teatro ah sono una gran figa sono una gran figa viene convinta tra l'altro dallo zio di lui che tra l'altro è tipo una fangirl perché ha tipo tutte le foto di donata dice ah io ho una foto di te che fai questa roba gli stalker è letteralmente uno stalker nel novecento e la sua best friend forever che gli dice ma sei cioè devi fargli vedere sta roba amo devi fargli vedere come resti perché sono diventate milanesi? perché nella mia testa sono milanesi in effetto ok poi tu puoi farlo come vuoi nella mia testa nella mia regina loro sono milanesi parlano così scusatela si è fatta troppi bolli in testa da bambina terzo atto ok terzo atto ti sono sposati? no sul palcoscenico no perché dopo che lei gli ha detto senti vieni a vedermi ah c'è questo adesso buco quindi tu non sai sul palcoscenico donata recita come un cane malissimo i primi due atti dello spettacolo ok non ci è dato sapere che spettacolo sia però dicono che tipo il più bello dell'anno e lei recita malissimo questo perché ormai ha una vita propria e recitando si rende conto che il suo rapporto amoroso con Eli si sta riversando sul palcoscenico colpo di scena cioè tutto quello che lei ha vissuto con il suo amato lo sta riportando sul palcoscenico lei lo riconosce e dice c'è qualcosa che non va ok al punto che lui che a questo punto abbiamo capito che è una red flag con la parrucca bionda non capisce un tubaccio di niente perché probabilmente lui il teatro vede solamente la roba fuori non è mai stato in teatro ne parla malissimo una cosa di una cattiveria proprio stupido e antipatico potrebbe farlo Daniel scusando scusando ti voglio bene Daniel quindi lui non capisce un tubo e crede che Donata approfitti dei loro momenti vissuti insieme per riproporli sulla scena cioè lei si fa schifo e recita malissimo perché rivede le stesse cose lui invece non capisce niente pensa che lei lo faccia apposta cioè tipo il revenge porn però versione 1930 non so come sei arrivato a questa conclusione però se ti aiuta va bene così mettiamo in piazza le cose private due sì 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 lui in effetti le dà parfallina anzi dice sembrava una ti sembrava brava non le dà parfallina è proprio questa la frase sì c'è scritto proprio tipo versi verso schifato te lo giuro hanno il copione poi te lo faccio leggere tu sei un'attrice questo è un verso schifato benissimo comunque solo dopo che Eli se ne esce dal dalla sala ok perché lui a un certo punto fa la scenata ancora più dramma quindi lei prende e se ne va ok al terzo atto lei ricomincia a recitare bene perché separata dalla vita reale può condurre a termine la commedia con grande bravura cioè una volta che lui se ne è andato come un maschio alfa dalla personalità messa in dubbio lei si sente staccata dal rapporto che ha con lui perché sa che lui non c'è più e quindi si riprende super femminista ricomincia a fare l'attrice fondamentalmente no 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 lei ricomincia a fare a sentirsi attrice e infatti per lei è un momento c'è quest'attimo in cui pensa di aver vinto di essersi trovata perché dice finalmente ho la certezza che posso vivere sia una vita mia sia la vita la vita da attrice ok da personaggio però in realtà è una persona che sa fare una cosa sola no in realtà o vive o recita ha preso se ne è andato quindi l'atto in realtà si svolge nella camera d'albergo dove stavano lui è incazzato come una biscia e che le dà ovviamente dove si incazzano le bisce dalle mie parti non ci sono le bisce sono una cosa più di queste parti quindi vabbè si incacchia tantissimo e ovviamente anche lì le ridà di nuovo il chi va là che o smette col teatro o altrimenti poverino che sfigato però cioè si mette con lei aveva la barca la lascia non ha neanche la barca ma non ce l'ha neanche più la barca per forza è una fragata quindi pensa che è sfiga ci inizi che sei da single con la barca finisci che sei da single senza barca finale donata rinuncia alla propria vita per vivere quella più reale dei suoi personaggi la vita per l'arte è una vita esclusiva non consente altre forme di esistenza esige l'artista nella sua disperata solitudine in pratica per lo stesso ragionamento noi dovremmo essere singola vita l'unica singola quindi va bene io ogni riferimento no non è vero tranquillizziamo i fidanzati a casa di attrici e attori non vi lasceremo questo era stato scritto nel 32 capito Giorgia Daniele non ti lascerà Daniele Giorgia forse ti lascerà dipende dalla regia ecco dalla regina questo è la trama bellissima è molto molto psicologico non succedono tantissime cose a parte lui che la cagna sulla testa è molto concettuale tra l'altro lei dice fa ore di monologhi e infatti io questo personaggio non lo vorrei mai fare nella vita si riaama tantissimo i monologhi no 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 io mi sono mi sono autopresa il ruolo di Nina la scassaballe ma Nina è del tipo il primo atto per 5 minuti finché non si picchiano e probabilmente è morta no ma tra l'altro se non è la buttano al palco lo stronzo cosa dice io adesso questa qua Nina adesso questa qui prima o poi la zittisco la sbatto al muro le do un bacio quella zittisco e poi me ne vado e poi lo fa e poi lei urla e dice no sono scappati e poi non si vede più ma questa chi è? Nina una scassaballe che c'è solo nel primo atto cioè lei si fa baciare da uno? da lui da Eli ah sì lui è antipatico da morire beh però c'è un c'è dietro tutto questo questa storia c'è una trama cioè una mascolinità tossica di livelli ma anche la protagonista ha un po' di problemi io capisco vivere per l'arte ma non morire nell'arte ora abbiamo fatto tutto questo riassuntazzo ti è piaciuto? interessante devo dire ti è convinto devo dire molto interessante e molto mentale ok parliamo di un eventuale cast problema principale personaggi numero 13 13 13 personaggi 6 femmine e 7 maschi posso dire che la protagonista è Rachele comunque sì ma tra l'altro ho visto una versione che era stata registrata per la televisione e la protagonista assomigliava anche proprio a Rachele quindi ho detto ehi abbiamo lei comunque 13 attori non servono in generale non è fondamentale che se ci sono 13 personaggi ci siano 13 attori esatto se siamo ricchi ne possiamo avere anche 26 non è importante specifichiamo questa cosa sì che noi siamo ensemble company siamo 6 siamo 6 e siamo poveri come ma poi ci sono anche personaggi che magari non sono fondamentali che possono essere ricoperti da un altro personaggio vengono tagliati esatto Shakespeare metteva tipo 70 personaggi nei suoi spettacoli a parte che nel primo atto si vedono questi personaggi che poi non si vedono più tra cui a parte i due personaggi principali quindi Donata ed Eli poi c'è la sua best friend Elisa che in effetti torna nel secondo atto Carlo Giviero un tizio che si vede nel primo atto e poi ciao Marchese Boveno che è la zia della Nina Scassaballe Nina che non si vede più Conte Mola che è lo zio di Eli quello che è lo stalker Volpes 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 c'è scritto Volpes vabbè sappiate e Salò adesso sarebbero palesemente due gay secondo me vedi tu la fotografia erano best friends magari e poi ci sono un dottore che è il poveraccio che deve fasciarle la testa nel secondo atto Enrico un cameriere un'altra cameriera e un'altra cameriera loro non hanno i nomi perché ma si già questi personaggi non sono fondamentali anche il dottore lei fa automedicazione lui è un pescatore ed è bravo a fare automedicazione quando è in mare quindi già li ha eliminati il problema il problema in realtà è nel primo atto perché tutti parlano malissimo di donata cioè la maggior parte dell'atto è gente che parla male però metti un cast di sei persone togli donata rimangono cinque persone devi togliere anche Eli ma lei è stronza quindi fa parte di quelli che parlano male di lei Eli è il moroso ah scusa ma non importa arriva dopo si mette i baffi e non si riconosce più beh ma questo succede sempre in teatro ma anche a Broadway ci sono gli attori che fanno 77 personaggi ok secondo me per i due personaggi principali non si può fare non dirò il titolo perché non mi ricordo però Giorgia se lo ricorda c'è un musical dove c'è un personaggio che fa praticamente tutta la famiglia sei volte appare a gentilest guy to love and murder vabbè comunque abbiamo un problema di o tagliare personaggi che si può fare beh sì oppure un personaggio tipo Giorgia poverina che è abituata a farsi 40 personaggi insieme stessa cosa fra già e quindi non è vero dai in viola Giorgia fa un personaggio fra se ne fa tre però vabbè ma perché fra non era neanche considerata inizialmente quindi ok quindi non consideriamo manco le persone che abbiamo già siamo pochi consideriamo di essere ancora meno scherzo scherzo e quindi praticamente ci sarà solamente Donata Genzi fa tutto solo lei che già parla troppo vuoi mettere si potrebbe fare anche uno spettacolo da sola dove i personaggi secondari sono voci tipo Anna Marchesini che parla da sola beh 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 è Anna Marchesini che se lo può permettere esatto se sei Anna Marchesini lo puoi fare che per quelli che non sanno chi è vi prego diciamolo perché conosciamo tutti la voce di Isma nelle folie dell'imperatore ecco lei beh se sapete solo quello fatevi curare esatto siamo qui anche per diffondere questo tipo di cultura esatto giusto male malissimo però diffondiamo anche questa cultura qua dunque se ti interessa possiamo anche parlare della scenografia ah era stata impostata una scenografia porca vacca c'erano di quelle di Ascalie per ogni atto ci sono 400 pagine in cui c'è scritto esattamente come devono essere impostate le cose quindi ho capito da che ho preso è un problema dei conterranei è evidentemente un problema siciliano esatto io secondo me cado alla sedia no però secondo me tu non sei così scassa balle che tu beh solo perché sono povero pirandello si poteva permettere di fare le scenografie specifichiamo anche questa cosa che noi essendo poveri la scenografia la possiamo fare con gli sgabelli perché con gli sgabelli si può fare tutto esatto questo in realtà è l'armadio di Daniele riversando lo sversando no però diciamolo c'è questa cosa nel mondo del teatro che tu puoi fare un divano con due sgabelli ed è palesemente un divano ragazzi io metto lì uno sgabello e improvvisamente è un salone da cerimoro è lo stile che si usa negli ultimi anni proprio perché si fronteggia la povertà perché siamo tutti poveri e soprattutto le quinte che ti aspetti le quinte ma siamo avanti intanto se ti aspetti il teatro è più facile che reciti in piazza cioè al parchetto dei bambini se qualcuno vuole investire nei nostri spettacoli noi siamo qui i nostri contatti li trovate sul sito www.ensemble.co.it scusate ensemble.co.it il sito l'ho fatto io non mi ricordo neanche pensa se non l'avesse fatto lui problemi esatto ok fa un po' implode eh? fa un po' implode quel sito ah implode benissimo vabbè non sono affari mie perché il sito non lo faccio io perché sono troppo incapace quindi guardiamo questa scenografia guardiamo questa scenografia c'è atto per atto eh ragazzi ok primo atto tempo presente già questa cosa la possiamo cambiare se tempo presente intende negli anni 30 vabbè noi attivi eh allora possiamo dire che è una storia anche attualizzabile sì decisamente cioè abbastanza poi magari un po' troppo maschilista però direi che c'è tanto maschilismo funziona ancora al giornologico secondo me funziona da quel punto di vista lì tempo presente Riviera atrio della villa Arcuri in Riviera Arcuri è Manuela no stavo per dirlo no Elisa che è la sua best friend ah ok che lei si è presa ecco perché serviva l'amica perché serviva la villa no esatto ma perché la nostra donata si è presa un attimo di vacanza e quindi la parla all'amica non è come quando c'è estate che vuoi andare in piscina e speri che c'è l'amico con la piscina che ti no lì ha l'amica ok in effetti poteva benissimo essere lesbica per quanto si riguarda però beh vabbè a sinistra la scala scoperta di legno con guida che conduce ai piani superiori si vede nel primo piano il ballatoio il ballatoio ragazzi il ballatoio se non sapete che cos'è è praticamente un balconata che si vede che ci sono nei teatri per passare da una quinta all'altra ma non passando da sotto ma da sopra ovviamente generalmente è coperta quindi non serve ovviamente metterla in scena quindi solitamente è coperta dal fondale ma noi ci abbiamo fatto uno spettacolo in cui abbiamo ballato e cantato anche da lì noi abbiamo debuttato sul ballatoio esatto cioè il nostro primo spettacolo spettacolo in un teatro spettacolo in un grosso teatro possiamo fare nomi? non si sta vabbè teatro nazionale quello possiamo dire sì al teatro nazionale è un teatro è un teatro e noi abbiamo debuttato lì perché il nostro primo intervento sul palco è stato lì quindi a me questa scenografia che ha deciso il signore Pirandello piace tantissimo perché c'è un ballatoio su cui danno gli usci delle stanze sovrapposte sotto questo ballatoio nel fondo in mezzo l'uscio che li mette nella sala da pranzo uscio a vetri smerigliati uscio usci uscio uscio a vetri smerigliati quindi se non abbiamo quelli smerigliati ragazzi è finita non si può fare a destra invece appartato in un angolo le cui pareti sono formate da scaffalature di libri noi al massimo abbiamo i libri ma la scaffalatura è un po' è un bel pannello disegnato con i libri un pannello disegnato in effetti intorno alle quali corre una panconata di cuoio un tavolino è in mezzo con porta fiori porta sigarette porta cenere eccetera eccetera porta tutto e poi così ricchi mobili moderni da atrio così se ce li hai mettili dentro noi che non ce li abbiamo mettiamo poveri mobili da esterno ne mettiamo un divano un'arella ed è finito ed è finito il divano ma è ricca un divano due sedie due sgabelli o tre dai perché la contessa e la marchesa direi che noi possiamo asciugare tutto questo in una scena al buio gli usci non ce li abbiamo il cuoio non ce li abbiamo il ballatoio lo copriamo guarda se siamo proprio fortunati magari riusciamo a trovare una panca al posto della poltrona super moderna tavolino e poi vabbè gli oggetti di scena sai quelli che fanno gli elementi shabby chic che fanno il letto però con le panche quelle che danno i bancali sì i bancali del supermercato secondo me super attuale lo facciamo così gli oggetti di scena si trovano basta andare nei posti a tutto un euro ok quindi questa era la casa della signora Arcuri Elisa quindi rifattibile da poveri casa da ricconi che noi poveroni noi poveroni però possiamo dire che noi possiamo coprire la panca con delle bellissime stoffe che trova Giorgia magari finto da mascato che sembra tanto ricco allora lo possiamo fare con i teli bianchi di Psichè esatto che noi abbiamo fatto il nostro primo spettacolo come associazione che si chiama Psichè questo lo posso dire perché è pubblicità interna in culta in culta in cui la nostra scenografia era tutta coperta da teli bianchi quindi noi abbiamo un sacco di teli bianchi questi non ci mancano e possiamo utilizzare sempre atto secondo invece c'è una barca no 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 la barca è una fraga dimenticati la barca ah non c'è proprio no 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 non c'è le bende lo raccontano le bende è la sua testa quella è la trezzeria esatto non ti preoccupare trezzeria è già più facile ok stanza del villino perché non è un villone ma un villino già ci va un pochino meglio di Gianfranco Mola che è lo zio che è lo zio stalker in riviera sempre addivita a studio di pittura per Elie Nielsen perché lui essere oltre ad essere belloccio stronzo pieno di soldi figlio di papà con la barca pittura anche male dice lui stesso di pitturare malissimo però pittura quindi c'è un sacco di roba in giro la stanza è a pian terreno con una grande vetrata anche lì non lo so gli piacciono i vetri che si apre sulla spiaggia del mare quindi noi in fondo dovremmo vedere una spiaggia bene ok quindi per risparmiare basta farlo su una scogliera sì non lo so un uccio a destra un altro a sinistra che dà allo spogliatoio che non serve a niente però spogliatoio tipo reggbisti aspetta la mia parte preferita bizzarro addobbo e molto disordine quindi noi mettiamo un po' di cose di cane come siamo ricchi aggiungiamo anche roba che non serve quindi la mia la mia teoria è le cose che c'erano prima le sbottiamo però io mi chiedo sempre lo spiaggatoio dei reggbisti tu vuoi quello? io metterei quello ma devono esserci i reggbisti dentro però ma ovvio come li paghiamo? correggista potrebbe esserci un problema ecco quindi tele disegni cavalletto un manichino che può prendere tutti gli atteggiamenti ok ok hai capito mettiamo una persona che fa mettiamo Francesco così poi ah con una testa di cartone tignosa che non dice nulla ah quindi è Francesco o Francesco Daniele che mi fa troppo ridere che c'è scritto proprio che non dice nulla i tignosi i tignosi possiamo mettere comunque divano letto perché deve esserci dappertutto con coperta di velluto e molti cuscini modelli di nave a vela ma sì anche sta roba tavolino bar tavolino per scrivere poltrone quello che c'hai metti dentro ma quanto dura questo secondo atto che gli serve tutta sta roba niente perché loro parlano tutto il tempo cioè in realtà loro serve solamente il letto poi a un certo punto amoriggioarsi e poi di fatto ok ce ne frega niente no capito quindi anche lì tagliamo via tutto che non abbiamo soldi tagliamo quello che non ci serve ma neanche a brodo gli mettono più tutta sta roba però pirandello lo può fare va bene tu non sei pirandello quindi e poi un grande specchio nella parete sinistra che è stato nascosto dalla donata con uno scialle veneziano se non è quello veneziano il tecnico il tecnico luci sarà molto contento di avere uno specchio sul palco adesso è aperto esatto generalmente è Daniele che cura le luci Daniele ci sta facendo un gestaccio comunque appunto questo grande specchio è fondamentale perché ci servirà nel terzo atto quando lei si guarda e dice dove sono ah no quello era il primo atto scusa quando si guardava e diceva ma chi sono diventata non mi riconosco più no in realtà è più importante nel terzo atto terzo atto camera di un ricco albergo non ce lo possiamo permettere quindi andiamo a vedere per queste due nonna abbiamo uno specchio nel secondo atto che però serve nel terzo eh cioè se lo porta a spalla poi no è perché poi come lo sposti anche tu però antipatico cioè e quindi è che possiamo recitare anche spostare le cose Marco ah no in realtà sì in realtà sì perché siamo dei poveracci però cerchiamo di eh aiutarci no no in realtà è simbolico serve nel secondo atto ok ok terzo atto invece nella camera di un ricco albergo che per noi sarà il bed and breakfast di a meno siti alcova in fondo con l'arco ornato da una tenda damascata che nasconde il letto però il damascato c'era quello di prima usiamo quello di Giorgio c'è il letto c'è il letto anche qua vi succede salendo uno scalino quindi è un problema eh vabbè davanti è come un salotto però le norme di sicurezza e gli invalidi non si può fare più no infatti non lo mettiamo perché sennò siamo nella merda davanti è come un salotto con un gran divano in mezzo tavola eh di stile poltrone eccetera 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 sempre quello che hai butta dentro sulla tavola una grande lampada guarnita di un paralume violaceo che se non è violaceo non lo possiamo fare nella parete sinistra l'uscio in comune quella destra però un pochino avanzato come cosa già usava il viola no sì perché quello che vuole lui è che la scena si occupa pesante sovraccaricata di densi colori no no era per la questione della superstizione del viola anche lui utilizzava il viola ma solo gliene fregava niente nel periandello proprio così beh sì la vita gli aveva sorriso d'altronde quindi non ci peggio di così le aveva già viste tutte cosa gliene frega del viola in teatro questo qua peggio di Molière non poteva andare sì non può poverino ha avuto già una vita travagliata rimane rimane il problema di questo specchio che poi lei nel suo pezzettone finale nel terzo atto scoprirà dopo che lui se n'è andato via l'è rimasta abbandonata si rende conto che non può vivere due vite due diverse vite in una mentre si si toglie il trucco davanti a questo specchio comincia a dire fa farsi tutti i pipponi che si deve fare per arrivare alla conclusione quindi secondo me l'unica cosa veramente importante è lo specchio ma lo specchio lo abbiamo lo specchio lo abbiamo? l'abbiamo utilizzato in psiche l'abbiamo utilizzato in psiche quindi è fattibile ok più grande è meglio è però dai lo specchio si trova dai gli specchi li troviamo non possiamo fare pubblicità noi abbiamo al nostro fornitore di fiducia detto questo direi che la scenografia esagerata si ha i soldi però effettivamente anche le scene non è che richiedono no l'importante è avere qualcosa su cui stendersi che sia un letto un divano letto c'è sempre il pavimento comunque se sei talmente povero da se hai un palco perché se non è un palco la gente non ti vede più ho capito vabbè noi valutiamo sempre una situazione un pochino io valuterei sempre al peggio del peggio comunque al peggio del peggio se lo fai alla piazza del paese probabilmente non ti sentono neanche perché non hai magari i microfoni perché sei povero pure per i microfoni quindi direi che a proposito dovremmo comprarli ma non abbiamo i soldi questi li abbiamo rubati esatto quindi considerando che allora per gli attori non ci serve nessun altro ce la caviamo noi quindi soldi per gli attori quelli per noi si spera che qualcuno ci paghi un soldo tra i soldi che abbiamo uno per gli attori ce lo possiamo tenere il secondo soldo che sarebbe per la scenografia ma un soldino dai un mezzo soldino sì dai penso che si possa riuscire a trovare nelle case roba ok e il terzo soldo ce lo mettiamo in tasca ce lo mettiamo in tasca io non sto capendo perché i tre soldi siccome Giorgia non ha capito come si chiama il podcast che si chiama l'opera con tre soldi con tre soldi allora consideriamo di avere tre soldi uno è per eventuali attori in più che ci dovrebbero servire ma abbiamo deciso che ce la caviamo tra di noi e sei sì secondo me sì quindi un soldo ce lo teniamo il secondo soldo che sarebbe per la scenografia ma non penso più di un soldino quindi secondo me mezzo soldino mezzo soldino ok e l'altro soldo che ci rimane ma secondo me si potrebbe utilizzare qualcosa più di tecnico quindi luci tipo dei microfoni che non abbiamo beh sì a parte i microfoni perché li abbiamo spesi tutti per questo facciamo finta che ovviamente abbiamo i microfoni per l'andare in scena facciamo finta quindi già di nostro quindi per fare lo spettacolo però secondo me più asciughi da una parte devi dare più corpo nell'altra quindi se togliamo tanta scenografia diventa molto essenziale minimalista sicuramente ci vuole un po' più luci poi probabilmente magari non lo so proiezioni poi si può sempre utilizzare soldi che avanzano in sponsorizzazioni che quelle non fanno mai male farci sponsorizzare da pagare il teatro per farci fare lo spettacolo per favore vi prego fateci fare gli spettacoli e vi diamo i soldi ti chiedo anche un'altra cosa tipo tipo Alessandro Borghi quando fa potrebbe ribaltare il risultato ok vorrei dare tipo una votazione di secondo te quanto è possibile riuscire a mettere in scena questa cosa in sgabelli perché considerando che faremo tutto con gli sgabelli cosa facciamo fino a tre o fino a cinque come le stelle tipo cinque stelle però al posto delle stelle gli sgabelli cinque sgabelli ok da una cinque sgabelli fattibilità in generale cioè a livello di attori prove messe in scena ma secondo me è una storia abbastanza attualizzabile vendibile sicuramente ora bisogna senza insultare Pirandello ovviamente bisogna guardare anche il testo poi nella reale quindi capire cosa eventualmente se va bene perché può essere che anche Pirandello sia stato talmente bravo da rendere un testo moderno secondo me è molto moderno quindi vendibile oggi adattandolo sicuramente ai tempi più moderni quindi alla nostra società di oggi seppur la storia sia un sempreverde quindi direi cinque secondo me cinque ci sta ci potrebbe stare e allora Siria sarà la protagonista no e avrà tutti i monologi assolutamente no proprio non faccio il gestaggio come punizione no Daniele l'abbiamo già soldato come no Francesco come manichino per le faccine tu fai lo stalker perché si ci sta dopo Franca Viola ci sta dopo ci sia un po' un ruolo allegro di una persona simpatica ci può stare dai va bene la cosa che mi interessava di più di tutto sto sto gran coso era che come ho detto all'inizio di parlare di opere sconosciute di autori molto conosciuti dando per scontato che in realtà che si conoscano questi autori conosciuti anche se in realtà Pirandello direi che un po' sì no il punto è che tutti pensano di conoscerlo davvero ma in realtà nessuno si mette lì a leggere cioè nessuno oddio qualcuno ci sarà però non è che tutti si mettono lì a leggere beh gli autori classici seppur Pirandello sia un po' più contemporaneo diciamo generalmente lo faccio solo io praticamente ma generalmente tranne che non sei un appassionato di letteratura ti perdi in 50 sfumature di grigio mia mamma scusa ma dunque questo era il vero scopo della mia ok pensavo peggio del mio giorno qua posso ammettere che pensavo peggio sono un po' stupidina un po' bionda però in realtà ci tengo a queste cose qua e quindi io direi che possiamo chiudere qua il nostro podcast che si chiama Giorgia l'opera contro i soldi bravissima Giorgia e lo slogan sai qual è? l'opera contro i soldi no 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 lo slogan perché io sono molto brava è l'opera contro i soldi così è se ci pagano ti piace? ma ti piace? così è se mi pare così è se ci raga però mi piace tantissimo vabbè devo fare io lasciatela da sola però a me piace tantissimo possiamo salutare? sì chi salutiamo? volevo salutare tutti quelli che mi conoscono no facciamo le cose serie io voglio ringraziare te per avermi ascoltato grazie e Giorgia per aver piazzato tutto sto ambaradam e di preparare poi le cose voglio fare un saluto al professor Susa voglio ringraziare Pirandello per essere venuto al mondo e ci vediamo alla prossima puntata se ci sarà e iscrivete al canale assolutamente tutto quello che dovete fare mettete mi piace seguiteci sui social Instagram Facebook non ci caga mai nessuno TikTok c'è Giorgia che balla Daniele che parla di fotografia Siria che fa le cose ci sono i link cliccate ovunque appena avete l'ensemble e cliccate qualunque cosa informazione di servizio tutte le cose di cui ho parlato sono presenti nelle biblioteche più antiche e remote del web e quindi trovate tutto andiamo per chiudere una pillola una cosa extra che non c'entra niente che in realtà è cultura personale Pirandello sono stato perché abitando nella stessa zona in realtà sono vicini di casa sono andati ad elementare insieme abitano in una città diversa però si abita la casa di Pirandello è nel paese di Natale di mio papà e ovviamente lui aveva una bella casetta vista mare ovviamente e aveva anche su questa zona dove abitava lui c'era un albero dove lui ogni tanto si andava a sedere in questi alberi pensavo le alghe esatto quest'albero è un po' sfortunato perché è andato in fiamme nel senso che un paio di fulmini hanno deciso di usarlo come traliccio e quindi una cosa bella che c'era di Pirandello che stavano cercando di tenere in vita in realtà è andata distrutta ad oggi rimane solo il resto del tronco hanno fatto un piccolo altarino nel percorso della visita della sua casa e c'è ovviamente il tronco quindi speriamo di non fare la fine dell'albero di Pirandello direi che dopo questa cosa molto triste possiamo chiudere con questa perna possiamo salutare quindi ci vediamo alla prossima puntata se ci sarà ciao a tutti vi prego mettiamo questa foto di Pirandello ti sta chiamando qualcuno mamma eh dimmi eh che cavolo non mi rispoglio il senso eh stavo facendo una roba mamma stavo registrando è un casino della mamma dalle strade si può andare c'è giù la neve e a Bostano si è sproponato tutto di strada magari non si può parlare da Bostano e dov'è il mio telefono Dani? perché altro avrà rotto le balle per sapere come torno a casa che si può fare come torno a casa che si può fare come torno a casa